Altro che slalom gigante, la condizione dei genitori che lavorano tra accudimento dei figli, taglio dello smart working e regole sul congedo parentale è un vero e proprio calvario, senza dire che c'è anche il rischio di un taglio della busta paga. Lo ricorda anche la senatrice Valeria Fedeli che pochi giorni fa ha prodotto un'interrogazione parlamentare. Valeria Fedeli sarà in studio con noi nell'appuntamento di mezzogiorno di oggi.